Il design di interni è fatto di luce, colore e texture, condizioni di comfort ambientale e arredo. È l'habitat in cui viviamo. Questi i temi del workshop di infoprogetto dell'8 marzo 2016 a Milano a Palazzo delle Stelline. Il workshop design di interni ha portato in dote a più di 500 architetti presenti una serie di interventi e novità importanti in un settore che è al limite tra architettura e design e, come ha ricordato l'architetto Marco Piva, è campo d'elezione del Made in Italy nel mondo. Un workshop valevole per sei crediti formativi, un'occasione per conoscere le aziende migliori del settore, i nuovi prodotti e le migliori tecnologie del mercato. Siamo molto contenti di essere qua anche stavolta, questa manifestazione che per noi è molto importante, infatti ci dà modo di essere presenti a eventi importanti come questo e ci teniamo a sottolineare gli articoli nuovi che presentiamo in questa giornata, quindi il Vesta è già stato presentato circa un anno fa in un'altra di queste manifestazioni, adesso c'è l'evoluzione del Vesta, quindi qui vedete l'esempio alle mie spalle che è ancora l'articolo prodotto in pezzo singolo fino a tre metri ma abbiamo una versione nuova che presentiamo adesso con dei Deppi a nuovi fino a sei metri con due sistemi che si muovono in contemporanea oppure con due teli separati con due movimentazioni e motori diversi. Ecco, vediamo tra l'altro dal vostro catalogo che la scelta dei tessuti è praticamente infinita, insomma è personalizzabilissima. Esatto, siccome sono articoli di design anche in quello c'è una scelta molto approfondita da parte del nostro titolare, una ricerca costante di prodotti sempre nuovi con caratteristiche di tessuto sempre più particolari adatte alle esigenze del mercato di oggi.